musica Senta, dicono che in Bangladesh ci sono dei tifosi della Cavesa, lei che ne pensa? Oh, a Cavescov c'è niente Signori, chiedo scusa, dicono che tifare per la Cavesa dia effetti afrodisiaci, voi che ne pensate? La Cavesa? Non può fare niente Ah Scusi, lei che ne pensa di quelli che portano il tricolore alla partita? La Cavesa? Non può fare niente, cioè Oggi la Cavesa ha fatto un comunicato stampa dove ha detto che Bicinz non andrà più a vedere la partita e quindi ci sono provisioni ottimistiche per il futuro, lei che ne pensa? La Cavesa? Non può fare niente Allora, a Salerno dicono che vedere la Cavesa fa cadere i capelli, lei che ne pensa, visto che ha una bella capigliatura? La Cavesa? Non può fare niente Scusi, recenti ricerche dicono che tifare Cavesa fa abbronzare di più, lei cosa ha da dire a proposito? La Cavesa? Non può fare niente Non può fare niente Oggi a Telegiornale hanno comunicato che tifare Cavesa fa diventare meno timidi, lei cosa ha da dire? A Cavesa? Tu fa niente Signor Depravato, hanno fatto un club Cavesa supporta il Sapechino, lei che ne pensa? A Cavesa, tu fa niente 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 Grazie.